Ciao a tutti cari ragazzi e cari signori, e benvenuti in questo nuovissimo mega video. 1. Fabio. Scommettiamo che, è stata una trasmissione televisiva andata in onda su Rai 1 dal 1991 al 1996, in seguito riproposta con alcune varianti, sempre su Rai 1 nel 1999, 2001 e 2003 e su Rai 2 nel 2008. La sigla è bellissima. Porta a Porta è un programma televisivo di genere talk show e rotocalco ideato e condotto da Bruno Vespa, in onda su Rai 1 dal 22 gennaio 1996. La sigla è bellissima. Dixieland è una serie televisiva creata da Andrea Zingoni e prodotta dal 2011 da T-Rex di Gimensione Rai Yo Yo. La sigla è bellissima. 44 Gatti è una serie televisiva italiana del 2018. La sigla è bellissima. Federica Sciarelli è una giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice italiana, cronista parlamentare e consigliera dell'Ordine dei giornalisti del Lazio. Gianni Boncompagni, all'anagrafe Gian Domenico Boncompagni, è stato un conduttore radiofonico, parliere, autore televisivo, compositore e regista televisivo italiano. Nesli, pseudonimo di Francesco Tarducci, è un cantautore, rapper e produttore discografico italiano, fratello minore della rapper Faber e Fibra. 2, Letizia. Nesquic è una bevanda, prodotta da Nestlé. Tela Youngard ruota intorno a Chion, il figlio di Simba Enala, il quale riceve il compito arduo di guidare la Guardia del Leone, un gruppo incaricato di proteggere il cerchio della vita nelle terre del branco. Nel farlo, sfida la tradizione rionendo un gruppo di vari animali che sono Bunga il Tasso del Miele, Ono le Gretta, Beshtel Ippopotamo, Fuli il Gheppardo e nella terza stagione Anga l'Aquila. Durante le sue avventure, Chion riceve anche consigli dallo spirito di suo nonno, Mufasa. Trolls la festa continua, continua con le vicende dei Trolls dopo il primo film, mentre Trolls Trolls topia dopo il secondo film. Formula 1 Drive to Survive. Durante le spietate stagioni di Formula 1, piloti, manager e proprietari delle scuderie vivono una vita a tutta velocità, in, pista e fuori, per poter vincere più punti possibile e avere una grande macchina. MotoGP Unlimited racconta tutta la stagione del 2021 di MotoGP. La Yamaha Motor è un'azienda produttrice di veicoli motorizzati, motoveicoli e motori marini. La Land Rover è una casa automobilistica inglese specializzata nella produzione di fuoristrada e sport. Secondo Vicky, au.it, per essere considerato, per una licenza di Formula 1 bisogna ottenere 40 punti in un periodo di 3 anni. Accumulare 300 ore in una monoposto di Formula 1. Come ulteriore requisito per ottenere la licenza bisogna avere l'esperienza la guida di vere e proprie vetture di Formula 1. Taz, Silvestro e Titti sono alcuni dei personaggi del mondo di Looney Tunes. Anna Tatangelo è una cantante e conduttrice televisiva italiana, nata a Sor al 9 gennaio 1987. La Coca-Cola è una bevanda industriale analcolica di tipo bibita. Curioso come George è una serie televisiva statunitense di settembre 2006. La sigla è bellissima. Questa serie segue delle vicende e delle nuove avventure di George e i suoi amici. 3, Carlo. Noi e gli altri siamo della Carlton proprio adesso, perché proprio grazie al nostro amico supereroe di colore azzurro. Se la sigla di TG1 ritornasse a quella del 1998, sarebbe perfetto. Tua sorella ha detto che il nuovo cartonito fa schifo. A noi invece, è tutto ok. Anzi, così così. Se tutti i canali di Mediaset trasmettono in HD, sarebbe perfetto, ma alcuni canali l'hanno già fatto. Adesso mancano gli altri. Se la sigla di TG5 avesse la clip di canale 5 News del 1988, forse forse, no. 4, Toss. Se Italia 1 è giallo trasmettono curioso come George. No, perché Mediaset e Discovery non la faranno mai. Curioso come George l'hanno messo su Frisbee anni fa. Se Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5 e Italia 1 trasmettono le televendite. L'avevano già messo. 5, Raffaele. Se la sigla di studio aperto ritornasse a quella del 2011 ma con la musica di adesso. Forse forse, così così. Se TG con 24 trasmettesse in HD, sarebbe perfetto. Se Rete 4 trasmettesse anche per i minori di 18 anni. Forse forse, no. 6, Alessandro. Se Boomerang avesse il meteo. Forse forse, no. 7, Ciro. L'avevamo già fatto la nostra reazione di TG3 di adesso. Ma anche quest'anno il TG3 di adesso fa schifo. Paddington è un film del 2014 diretto da Paul King, scritto da King Amish McColl e prodotto da Davide Iman. 8, Christian. Riusciremo a vedere il restyling completo di TG La 7 e Tele Lombardia dopo anni di attesa? Lo scopriremo prossimamente. E 9, Patrizia. Discovery Kids, è il canale televisivo dell'America Latina di Warner Brothers Discovery. Riusciremo a rivedere Sky 1 più 2? Lo scopriremo prossimamente. E con il mega video è tutto. Ciao a tutti cari ragazzi e cari signori e alla prossima.